Cosa, eh? Cioè... E ancora... Ma hai comprato... Spotify? È una versione cracata. Mi avevo bannato con la versione scossa, eh. E quindi ho dovuto aggiornarlo, e quando non ha conto, no. Mi fa paura. Ah, ecco, non mi sembra che ti bugassi per Spotify. F***. Oh no, vai, vai! Non mi rendi giusto. Non mi sembra che non fai fare. Vabbè, hai, hai, hai. ok se c'è un'evacuazione non sono responsabile ma basta ti tiro da qua, ti tiro da dietro qua sul pannello 5 a 4 come l'acqua oddio cazzo bella questa quando canta Mahmood ma è stato due anni fa no? ma in realtà hanno pagato per favore si questo è sicuro ma che cincinesto? ma che cincinesto? no a me non finisco ma che cincinesto? te lo faccio sentire come se fosse finito c'è il mese al magatusse? bello tutto, fa schifo nel tuo culo c'è 500 bicchieri davanti game over un set per Giovanni non è in track no c'è il bicchieri ma che sono io c'è il bicchieri tutto